Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Lo vedete solo voi, giusto? Io non lo vedo Non devi dirlo perché ti arriva le richieste, occhio Ah sì, Silvestro buffo Ok Te è pericolosissimo Matteo Ragazzi, mi avevo fatto fare delle figure di in merce Io sono in merce, è un posto pubblico Scusami Dove sei? Dove sei? Che negozio è? Che negozio è? È abbastanza importante Dici il nome, dici il nome, noi lo conosciamo No, non dicono che sono Quello è il compare di Gino, fidati, abitava vicino Pescara Un po' di pecorino Un po' di pecorino Mattias, vedi di un Ritterstabgola, ti vedi dentro lo giuro, ti rimpio di botte Ciao Mattias, tutto bene a te? Ma che cazzo vuoi? Ma perché non sto cucinando sespo comunque in tutto ciò? L'acqua a bollire, guanciale tagliato a pezzettini e salsetta magica, vamo Abbiamo lasciato il grasso del guanciale, l'abbiamo messo qua a riposare Ne abbiamo aggiunto un po' qua Andrea Fratino, per gli amici sempre Andrea Fratino Sono un parrucchiere che ormai conto ben tre stelle Michelin Michel, Michel Tre stelle Michel Sono anche un grandissimo appassionato di culinaria No, o è di culi o appassionato culinario Per questo Inizia di insegure Vabbè, culinaria Erika, me non fotte un cazzo Che amici o no È un traditore Ascoltami Erika Non sto scherzando È un traditore che ti ha tradito Con la team americana Non l'hai fatto la carbonara Ascolta, ma tu la conoscevi lei? No, non la conoscevo Ehi, anche tu sei di Milano se non sbaglio Sì sì, sono di Milano infatti E per questo mi sono detto Ma vi siete mai beccati in giro neanche una volta? No, non siamo mai beccati È strano, veramente strano Vorresti beccarla un giorno almeno Per vedere, per parlare di affari così Ovvio, veramente, per parlare di una collaborazione si può fare Esattamente Scusami, puoi dirmi il tuo nome? Io non ti conosco, scusami Punti e schermo attivo Punti e schermo attivo Ragazzi Gasatevi un attimo Gasatevi un attimo ragazzi Per favore Bellire E prima quando venivano i primi turisti Per farsi i video delle scale del gioco No, il counter sotto è diverso ragazzi Sono le sub di oggi Il subquare è iniziato dopo Ti buttavano tipo le uova T'hai ragione, non volevano i turisti qua Esatto Dicene Che follia Cosa regata questo Allora Siamo a 241 abbonamenti Arriviamo a 250 Punti e schermo attivo prime Punti e schermo attivo sub Col premio della sub costa Vediamo tutti i vip Che sono le 23 e 12 Ci manca poco E ci sarà Chi è? Si vede la chat Chi è questa persona? Eh, non è lei tanto È l'amico Morcodì, ho sbagliato tutto È il fatto dell'errore E Simo sblocca Grazie Ma che minchia avevi Dici un attimo Insomma, Conte Ma tu di che sostanze stupefacenti Ti fai LSD, MD Ma che minchia dici Conte? No, beh Insomma Vabbè che L'ho ripresa Dici minchia C'hai due sacchi da box C'hai due rapporti Ora al serio E Balpensa Vai È impazzita Si sta masturbando Adesso devo andare Cioè devo andare E poi Farò vedere anche te Come hai questo Bondabash No, amore Ma che cazzo fai Amore Vai fuori Vai fuori ora Ma pensa a te Stavo per impazzire Stavo per impazzire Non perdere Questo è più non so Come cazzo fai A stare con questa Eh ma la donna Me la pongo anch'io Gassimi dei zombie Gassimi dei TKD Mi supportate sempre comunque Cioè sinceramente Io non voglio i suoli fans E ragazzi Gli artisti siamo così A un certo punto andiamo in overdose Moriamo Cioè lui se la sta svingando Guarda Vedi che se la sta preparandola Allora Devi provare a non ridere, ok? Non ce la fa Non ce la fa Devi provare a non ridere Ci ho venduto a commentare Dai va Dai poverino Mi dispiace per lui bro Dai va E poi fra due anni Guarda questo video e dire Ma lui È rubriaco Marcio ragazzi Credo non ci sia da Ma è vecchio ragazzi Voglio reactare questo Perché qua c'è tanta bella roba Spero l'abbia messo qua Questo ragazzi fa tagliare Questo ragazzi fa tagliare C'è questa e andiamo Basta, basta foto ragazzi Discoteca e c'erano Quei ragazzi li approcciavano Ma Non obbligare con me Simone Dai Simone Dai Simone No vabbè bro Ma io pensavo fosse stempiato Ma è la teccatura che inizia qui Dai però siete dei buoni No 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 Vi vedo là il coglione C'è Non è che non vi vedo Ma scusa Scusa Allora Prima di iniziare Con il powerpoint del topino Volevo fare delle domande A Sabra C'è l'american pori Franci Ma io ti manco Eh? Io ti manco No Sì Ma devi dire di no Ma come fai Adesso che lo sai Lo ho su Adesso che lo sai Ma la vera domanda è lui ti manca Anche Anch'io? Sì E perché non vieni? Perché è un po' di Un po' di Un po' di Un po' di Papa V Papa V Vaffanculo Ciao Vale E Sono qua Sono in diretta E sono qua con Virginia Ragazzi ma siete pronti? Con Virginia in diretta? Sì sì ma Cioè Perché tutti gli stanno scrivendo stasera delle clip Ma cosa stasera le clip vale? Che clip? Che clip sono quelle di cui parlano tutti? Ehm Ma è... È un video che abbiamo fatto in sardegna 심ore Con simoni Le mutande in testa Amor Le� Eh capacele Ma... Il castagnano? Chi è? Ma nemmeno a Milano To Tapian tu? come to do viene chiedi se mi conosce vale scusami chiara chiedi se mi conosce vale certo che mi conosce ma chiesto una cosa che lo fa a me a me a me a fub e chiedi anche erica casino guarda è andata avanti la clip di fianco alla stanza c'era la camera di sespo valerio mi ha appena mandato di fiori non è importante non è quello il punto della situazione erica non hai capito io sono andato avanti col video di 10 secondi casualmente sespo fa una gag dove dice se faccio la bottle flip dovrei tradire erica ok casualmente fa la bottle flip questo era una scusante perché il giorno prima valeria ha fatto qualcosa con qualcun'altra io ve lo dito per chiarezza e trasparenza per me non fotto un cazzo ma sappi che a me girano i coglioni le persone che tradiscono non solo questo volevo dirti hai visto? l'ho detto valeria quindi in realtà già ho non cerco nessuno ma posso capito? io farei quello del 2005 no no per ultimo oddio walk out poi dobbiamo fare 350 per un po' raga walk out walk out calmi a tt francese non ci credo bro nooo nooo hai capito? e pensi no vaffanculo va ma spara eh ma aspetta 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 porca troia no bro non hai capito bro a tt francese è un bappé bro turam è buono si è dato salvo tutti oh dai dd didi 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 pav didi ha trovato no ragazzi a tt francese